buonasera io ovviamente sono sempre assente non riesco ancora proprio assolutamente a parlare con i privati a riesco neanche a commentare in ceso quasi mai in giro casa e quel poco che ci sono soltanto di quelle questioni da sistemare da mettere a posto da fare che non ce la posso farcela niente aggiornamento di oggi in realtà non ho aggiornamenti né nel bene e per fortuna né nel male siamo andate oggi con mia cognata con erica è venuta anche la figlia di erica con noi all'ospedale ma mio marito ha praticamente dormito tutto il tempo e quindi dormiva però non si è svegliato quindi non abbiamo avuto modo di notare o vedere se qualcosa andasse meglio o peggio fosse reattiva non fosse reattiva non abbiamo notato non abbiamo potuto notare notare nulla poi siamo riusciti a parlare con la dottoressa di turno praticamente alla fine alle 6 quando ormai l'orario di visite stava chiudendo e purtroppo anche la dottoressa ci ha detto che gli esami neurologici che gli sono stati fatti tra ieri e oggi e le lettroencefalogramma che gli è stato fatto e tutto sono stati portati al centro neurologico di macerata per essere controllati per essere analizzati e tutto il resto ma che ancora non avevano rimandato nulla a camerino per cui non avevamo novità dal punto di vista diciamo medico di esami e quant'altro e non abbiamo avuto neanche modo di poter notare o non notare eventuali novità né nel bene né nel male ripeto perché mio marito era era semplicemente addormentato e continuava a dormire quindi respirava da solo aveva il respiratore staccato mentre fino a ieri andava un po' da solo e un po' col respiratore oggi respirava da solo anche se ancora completamente intubato e tutto il resto però ecco diciamo che forse l'unico accenno di miglioramento è quello che al momento non aveva almeno quando siamo andati noi bisogno dell'ausilio respiratorio tutto il resto è ancora tutto attaccato ovviamente è tutto da verificare tutto da analizzare è ancora tutto uguale praticamente uguale identico a ieri perché ora come ora a parte gli altri eventuali controlli i bilanciamenti dei medicinali per riuscire a capire anche se ci siano dei problemi ad altri organi interni eccetera li stanno facendo eliminando e aggiungendo i vari medicinali quindi lì ci vorrà sicuramente tempo però appunto le i controlli neurologici che sono quelli che adesso stanno puntando maggiormente in questi giorni quindi non avevano ancora un riscontro non avevano ancora un esame di rientro con un'eventuale relazione appunto da parte dei neurologi che li stavano studiando quindi è rimasto tutto un po' così noi siamo andati oggi ora ovviamente domani torneremo di nuovo all'ospedale domani vado con l'entrata del mattino di modo da riuscire a capire se per caso in mattinata siano arrivati sti benedetti risultati che stiamo aspettando sia noi e sia all'ospedale di Camerino appena ho qualche nuova informazione ormai appunto domani sera come al solito vi tengo aggiornati sempre attraverso questi piccoli video fuori orario a prescindere dai video del canale che sono in programmazione e escono per conto loro in questi giorni meno male che c'erano ma appunto perché come prima anzi più di prima perché adesso mi si sono presentate anche delle situazioni mie personali dove devo andare per uffici a fare dei documenti, a fare delle cose, mi hanno dato degli appuntamenti per altri fogli che devo stilare insomma è un macello totale quindi non avrei proprio il tempo materiale a momenti nemmeno di rispondere a mia madre al telefono non riesco proprio a star dietro ai messaggi privati che altro dire grazie sempre a tutti quelli che comunque seguono la vicenda mi commentano mi mandano messaggi di vicinanza e di amicizia mi scrivono per qualsiasi cosa non ti preoccupare ovviamente adesso non ho bisogno di nulla ho bisogno solo di andare avanti con le terapie che gli stanno facendo e di arrivare a capire almeno come sta e anche poi eventualmente cosa è successo perché ancora è tutto completamente fumoso ma intanto adesso valutiamo come sta e cosa ha lasciato tutta questa situazione che è proprio quello che stanno mirando adesso a studiare i medici e poi da lì una volta arrivati a capire almeno come è messo ora a livello di salute che danni ci possono essere stati che danni ci possono essere a livello di rimanenza di cronicità e che danni invece magari ci sono stati sono stati di passaggio o non ci sono stati e poi si dedicheranno anche nel frattempo a cercare di venire a capo della causa principale niente oggi il tutto che posso dire è questo per il resto anche io stessa anche mia cognata anche tutti le nostre famiglie e quant'altro aspettiamo noi stessi gli aggiornamenti che possono arrivare dall'ospedale io comunque continuo ripeto a tenervi informati per le sere dipende dall'orario che rientro a casa e che riesco a fare questi due minuti di video però vado avanti ringrazio sempre tutti e niente forse l'ho già detto ma sono arrivata a un punto in cui anche la mia testa non sa più cosa sta dicendo non so più che anno e che giorno non so più niente e quindi se l'ho già detto niente vi ho ringraziato due volte e vi ho detto due volte la stessa cosa fa lo stesso non cambia nada alla prossima al prossimo aggiornamento ciao